Pensi che è delico Pensi che è delico Ciao ragazzi Oggi Volevo provare a fare Dato che me l'ha chiesta Witherboy Mi ha chiesto una canzone personalizzata per il suo canale Quindi Pensavo di iniziare a pensare Io mentre ero lavoro Ho già pensato A un Prima quartina di righe Che praticamente era così Io ho pensato Nell'Olimpo Ci stanno Gli dei Questo inizio Sembra un po' Pollon Vabbè Poi aspetta cos'è che ho pensato A salvare Le vite Salvare le vite Ci stanno gli eroi Sì ho pensato Ma tu rimani Quello che sei Sei un mito Perché sei come noi Sì insomma Uno youtuber Come Come noi Che non si fa Pregare Insomma Sei un mito Perché Sei Come noi Ecco Io all'inizio L'ho pensato così Dopo c'è da pensare Musicalmente Perché Io stavo pensando Magari O su una musica Tipo Radio Gaga O dei Queen Oppure Qualcosa tipo I don't wanna miss a thing Dei Aerosmith O O Safer Sound Dunque Dopo Dobbiamo vedere musicalmente Perché Allora Pensate questa quartina Dunque Il ritornello Ora Nel ritornello Ci vuole Il nome Quindi io direi Come cantavo Durante Warframe Direi Wither Boy Wither Boy Wither Boy Adesso scrivo da cani Ma tanto mi serve a me Che dopo Andrà rimaneggiata Perché poi Dopo Quando la dovrò cantare Sicuramente Ci sarà De modificare Qualche verso Eccetera Eccetera Wither Boy Wither Boy Wither Boy Dunque Ma ripetiamo Sei uno Youtuber Come noi Sta cosa La ripetiamo Perché Ritornello Un rafforzativo Wither Boy Wither Boy Wither Boy A momenti Sembra che stia Stenografando Perché veramente Sono tornato Da lavoro Che sono anche Stanchino Ormai Mamma mia Come scrivo da cani Dunque Vediamo Wither Boy Wither Boy Wither Boy Sei Sei il nostro Sei il nostro Carro Davanti ai buoi Aiuto Sei il nostro Carro Davanti ai buoi Nel senso Che sei la nostra guida No Allora Sì E noi Però così Cioè così Do dei buoi Quindi Beh vabbè Ma dai Ma si capisce È una cosa Proverbiale Dai Allora Poi io direi Di ripetere ancora Wither Boy Wither Boy Wither Boy Come scrivo da cani Stasera Ma tanto Anche perché Sono in una posizione Veramente Assurda Dunque Aspetta Sto pensando Parliamo Di quello Che fa nel canale Quindi Minecraft Warframe Warframe Cos'è? Warframe Allora Wither Boy Con te Minecraft Non finisce mai Vabbè che con nessuno Finisce mai Minecraft Perché Con te Minecraft Non finisce mai Andiamo un po' Wither Boy Ancora Wither Boy Adesso Abbreviamo We We Ti chiamo We Sei la We D'ora in poi Sei We Vediamo In In Warframe Sei spaziale Lo sai Warframe Sei spaziale Lo sai Ok Ok E questo Diciamo che Una specie di Ritornello Dunque Adesso C'è a pensare Io farei Un verso Un po' Un po' Da Come si può dire Un po' Da Ma che cazzo Siete voi Cioè Nel senso Un Come si può dire Una cosa divertente Aspetta Sto pensando Ma chi siete voi Ma chi siete voi Ma chi siete voi Se non siete iscritti A Wither Boy Se non siete iscritti A Wither Boy Vieni qui tra noi Vieni qui tra noi Cioè Il canale è suo Questo c'entra Beh vabbè Vieni qui tra noi Tra tutti gli iscritti Di Wither Boy Dai Vieni qui tra noi Vieni qui tra noi Vieni qui tra noi Ecco Lo ripetiamo tre volte E poi Cosa possiamo dire Vieni qui tra noi Avrai un posto In prima fila Eh Cos'è la Rai Aspetta Avrai un posto D'ordinanza Ok Vediamo di fare Un'assonanza Con questo Ordinanza Quindi Avrai un posto D'ordinanza Questo Re Chiamiamolo Re Che gli farà piacere Questo Re Ti darà Sempre Udienza Oh bello questo Molto fantasy Questo Re Ti darà Sempre Udienza Come fai a star senza? Facciamo Come fai a star senza? Andiamo Come fai a star senza? Se sei ancora nella stanza Aspetta Se Se sei ancora nella stanza Abbi pazienza Se in te c'è sapienza Se in te c'è sapienza Se in te c'è sapienza Te sapienza Saprai che qua c'è tutto In abbondanza Inteso nel canale di guida Saprai che qua c'è tutto In Abbondanza E poi Direi L'ho già detto Abbastanza Iscriviti A Witherboy Che tu sia di Parma O di Cosenza No Questo è brutto Iscriviti A Witherboy Anche se ti fa male La panza No No Aspetta Iscriviti A Witherboy Perché Se vai a pescare E' la tua lenza No Aspetta No No Anza Unza Unza Renza Ranza Penza Bonza Banza Binza Bunza Aspetta Sanza Iscriviti A Witherboy Cos'è sto ronzare? C'è un insetto Che ronza Boh non lo so Ci pensiamo dopo A continuo Intanto proviamo A rileggere Nell'Olimpo Ci stanno gli dei A salvare le vite Ci stanno gli eroi Ma tu rimani Quello che sei Sei un mito Perché sei come noi Witherboy 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 Sei noi youtuber Come noi Witherboy Witherboy Sei il nostro carro Davanti Witherboy Witherboy No 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 Così non si può cantare così Aspetta Nell'Olimpo Ci stanno gli dei A salvare le vite No aspetta Nell'Olimpo Ci stanno gli eroi A salvare le vite Ci stanno gli eroi Ma tu rimani Quello che sei Sei un mito Perché sei come noi Witherboy 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 Oh Witherboy Oh Witherboy Sei un mito Perché sei come noi Oh Witherboy Oh Witherboy Witherboy Beh niente ragazzi Dai comunque Ci devo pensare Comunque Allora Nell'Olimpo Ci stanno gli dei A salvare le vite Ci stanno gli eroi Ma tu rimani Quello che sei Sei un mito Perché sei come noi Witherboy 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 Sei un youtuber Come noi Witherboy Sei il nostro carro Davanti Boy Oh Witherboy Con te Minecraft Non finisce mai Oh Witherboy In world frame Sei spaziale Lo sai Oh Witherboy Ma chi siete voi Ma chi siete voi Ma chi siete voi Se non siete iscritti A Witherboy Vieni qui tra noi Vieni qui tra noi Vieni qui tra noi Avrai un posto d'ordinanza Stora ti darà sempre udienza Come fai a stare senza Se sei ancora nella stanza Avvi pazienza Se in te c'è sapienza Saprai che qua c'è tutto In abbondanza L'ho già detto abbastanza Iscriviti a Witherboy Vabbè dai ragazzi Dopo ci penseremo A fare una cosa più decente Intanto vabbè Questi sono i primi pensieri Sulla canzone Dunque Dopo poi vedremo come farla Ciao Ciao Ciao